Parlo di un problema che affligge, penso, tutte quelle persone che sono un po' creative, tutte quelle persone che hanno un po' una vena artistica o comunque fanno funzionare molto il cervello nell'andare a progettare, fare, incanalare le energie in maniera positiva. Mi riferisco a un argomento che, per quel che mi riguarda perlomeno, è stato fonte di attrito nei miei stessi confronti, argomento al quale io mi sto ancora abituando, quindi in questo video non sto di fronte a te e ti insegno un qualcosa, ma in qualche modo ti condivido e mi metto al tuo fianco perché io stesso faccio parte di quelli che purtroppo cascano o comunque vivono questa dinamica, che non so come chiamarla precisamente, però è una dinamica della quale io mi sono reso conto e mi sono reso conto che non ci appartengo solo io e quindi se anche tu ti ritrovi nelle mie parole, scrivi sotto nei commenti. Dicevo, una dinamica all'interno della quale io mi trovo è che spesso quando vivo delle situazioni negative che portano un po' a deprimersi, che portano un po' ad essere negative, eccetera, improvvisamente tutto quello che è il mio, appunto, creativo riemerge, viene a galla. Cioè, è un paradosso, lo so, cioè quando io sono tranquillo, sereno, vivo la mia vita come si deve, eccetera, improvvisamente quel tasso di creatività, quella cosa che mi porta ad avere quello sprint in più, cala. E quindi io mi ritrovo un po' nella normalità, mi ritrovo un po' più che altro senza avere stimoli. Io, per dire, ogni tanto dipingevo, ogni tanto, insomma, mi mettevo nel bricolage, cose di questo genere. Ultimamente, negli ultimi mesi, non sento più lo stimolo, ma perché fondamentalmente sto bene, ok? Quando invece avevo lo stimolo di prendere, fare, dipingere, eccetera, questo stimolo mi proveniva magari da uno stato di irrequietezza, dovevo esprimere un qualcosa, dovevo fare un qualcosa. E quindi manifesto questo problema perché nella mia testa, stando un po' anche con me stesso, parlando un po' anche con me stesso, visto che con me devo conviverci un po' di tempo in questa vita e creare un rapporto tra me e me stesso, penso sia utile ai fini di una vita un po' più serena, parlando quindi un po' con me stesso, sono arrivato a realizzare che effettivamente i migliori periodi della mia vita, quelli più produttivi, quelli più densi, quelli che hanno portato una maggiore crescita, sono i momenti nei quali appunto mi sentivo frustrato, mi sentivo debilitato, mi sentivo magari anche un po' depresso, molto giù di morale, e mi sentivo solo, mi sentivo annoiato e via dicendo. E la trappola qual è? Tu dirai, la trappola qual è? Beh, la trappola è che non lo so, non lo so qual è la trappola perché ripeto, io mi metto al tuo fianco, nel senso che questo è un ragionamento molto a caldo che faccio insieme a te. Non vorrei, una cosa che mi dispiacerebbe, è che magari si arriva a un certo punto dove per dare quel boost alla propria vita bisogna crearsi le situazioni negative. Questa è una cosa che a mio avviso non è particolarmente efficace, magari è funzionale, magari per molte persone, magari me compreso funziona questo. Che cosa intendo dire? Intendo dire che sento appunto che la mia vita prosegue, però prosegue in maniera troppo piatta, troppo calma, e il mio inconscio va a generare dei comportamenti che portano inevitabilmente a una spaccatura della realtà, e di conseguenza mi vado a ricreare il mio brodo acido, nel quale stare, proprio quel brodo che mi mette un po' di peperculo per muovermi e alzare il livello. Penso di essermi spiegato. Quindi magari io, è vero, riconquisto la mia ex, sto con la mia ex, bello, fantastico, in una condizione di calma apparente, insomma, stiamo tranquilli, però a me manca quella drammaticità, magari, manca quel stare nel dramma, nella frustrazione, nel rifiuto, e quindi magari il mio inconscio, in maniera automatica, atto a determinati comportamenti che mi portano a ricreare e mi portano ad allontanare magari quella persona, e quindi che cosa succede alla fine della fiera? Io mi risento di nuovo frustrato, rifiutato, eccetera, ed è lì che comincio a brillare. E questa dinamica, penso, suppongo, sia un po' una trappola, perché se avviene questo, come molti artisti, io ho un amico che, insomma, è un cantante, non qua in Italia, ma in Francia, e lui mi dice, guardate, in questo momento, ci assomigliamo molto da questo punto di vista, e lui mi dice, non sto più scrivendo come una volta, perché sto bene, cioè, nel senso, c'ho 40 anni, c'ho la mia vita, due bambine, sto tranquillo, sto sereno, sto bene, e quindi non mi sento più di scrivere come una volta che stavo nel malessere, magari, nel malessere della gioventù, dei miei vent'anni, eccetera. Quindi, non lo so, è una trappola mentale nella quale cascare, penso, sia molto facile, e sono qua a condividerla con te, questa cosa, perché penso sia necessario, perché spesso mi arrivano anche molte richieste di molti ragazzi, giovani, che magari, andando a vedere i loro profili, sono, appunto, cantanti, artisti, gente che dipinge a un livello spaziale, gente che compone a un livello spaziale, gente che sta, appunto, nell'arte, oppure nell'imprenditoria, perché anche quello, no, è legato un po' alla creatività, alla riprova di se stessi, eccetera. Quindi, non vorrei che, appunto, si creasse questa situazione qua. Lo stesso sistema l'amo ancora, nasce da un mio forte disagio, chi ha letto il libro sa benissimo di cosa sto parlando, tra l'altro, se vuoi, libro giù su Amazon, in descrizione. Quindi, questo mio grandissimo disagio porta a generare qualcosa, no, mi sono incastrato il cervello, e porta a generare. Quindi, non lo so. Io ho fatto questo video per farti magari rendere conto di alcune cose, perché penso che il miglior obiettivo al quale aspirare sia quello dove io riesco a essere creativo, anche senza dover andare negli inferi per, diciamo, attingere da quelle energie che portano alla creatività. Quindi, se tu ti ritrovi in questa dinamica, se hai voglia, condividi con me nei commenti le tue idee, i tuoi contenuti, i tuoi concetti, eccetera. Quindi, magari, creiamo un minimo di dibattito, perché, ripeto, in questo video, io sono al tuo fianco e non so darmi grosse spiegazioni. So semplicemente che esiste un problema. Forse va anche bene così, perché forse, non lo so, magari il nostro cervello funziona in questo modo. Detto questo, ti lascio a questo video, a questo video dedicato al distacco. Se vuoi andartelo a vedere, clicca e baci. E tu, nel frattempo, mi raccomando, non fare stronzate. A presto.